Con All Evolution presso Le Desalte in questo momento abbiamo Rocco stiamo facendo degli esercizi di percezione sui quattro movimenti fondamentali stiamo lavorando sull'alto basso e cercando di tenere il baricentro sulle code quindi tutta la discesa tutta la curva col baricentro sulle code è uno dei tanti esercizi che facciamo e che proponiamo noi maestri gli istruttori e allenatori di Tonal Evolution e oggi è una bellissima giornata contattateci vi aspettiamo presto ciao da Omar